Intervistato dal quotidiano Il Messaggero, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato della corsa Scudetto elogiando anche il nuovo corso della Roma. Non dobbiamo pensare solo a quello che faremo noi. Ci sono anche gli altri. Ad esempio mi ha sorpreso favorevolmente la capacità di Di Francesco nell'essere subito pronto ad allenare in una piazza esigente come quella di Roma. Nonostante la cessione di giocatori importanti come Salah e Rudiger ha dato in poco tempo identità ed utilità tattica alla squadra. Riduzione delle squadre in A. Questo campionato non è veritiero, basta vedere numeri e risultati. C'è troppa sproporzione tra alcune formazioni e le altre. Non è possibile vedere squadre che salgono e scendono da una serie all'altra per avere i soldi del paracadute inventato da Lotito per ringraziarsi i club di serie B. È il momento di cambiare registro e guardare al futuro con managerialità, le parole del patron partenopeo. Grazie. Grazie.